Benvenuto su cambiavalute.ch, il sito dove puoi cambiare i tuoi franchi svizzeri in euro e viceversa, online ed in pochi click. Effettuare un cambio è semplicissimo, basta inserire la cifra che vuoi cambiare in questa maschera ed istantaneamente vedrai il cambio che ti proponiamo. La cifra che vedi è esattamente quella che riceverai, non ci sono né costi né commissioni. Essendo la nostra una procedura online abbiamo costi molto bassi, cosa che ci permette di offrirti un cambio migliore rispetto agli uffici cambio presenti sul territorio. Se vuoi procedere con il cambio basta cliccare qui. Ti verrà richiesto di inserire i tuoi dati ed inserire l'Iban del conto dove vorrai ricevere il denaro, il nome della banca e cliccando su richiedi cambio ora ti apparirà questa schermata con le istruzioni per procedere. Dovrai disporre un bonifico esattamente della cifra che hai richiesto di cambiare. Appena riceveremo il tuo bonifico, per esempio in Franchi Svizzeri, ti invieremo sempre via bonifico sul conto da te indicato gli euro. Esattamente la cifra che abbiamo pattuito. Per tua comodità riceverai via mail questa schermata con il riepilogo di tutti i dati. Come puoi immaginare tutta questa procedura è molto veloce in quanto viene fatto tutto via bonifico. È comodo in quanto non dovrai più cercare parcheggio per recarti all'ufficio cambio. Inoltre è sicuro in quanto non dovrai più spostarti con addosso tanto contante rischiando di incappare in situazioni spiacevoli che sono molto più frequenti di quello che pensiamo. Ma cambiavalute è sicuro? Sì! Infatti la nostra società è un intermediario finanziario autorizzato. Inoltre puoi venire a conoscerci in Corso San Gottardo 34 a Chiasso. Ti offriremo anche il caffè. Sono migliaia le persone che hanno deciso di cambiare il proprio denaro con cambiavalute e ti assicuro che se lo proverai non tornerai più indietro.